Divertirsi si può senza mettere a rischio la propria salute e la vita degli altri. È il messaggio che la Regione lancia ai giovani, sponsorizzando la campagna di prevenzione ed educazione Riprendiamoci il divertimento, ideata dall'Associazione dei Giovani Professionisti Italiani, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e presentata a Palazzo Lascaris. Obiettivo della campagna? Lavorare sull'autoconsapevolezza dei giovani per renderli coscienti dei rischi legati alla guida in condizioni alterate.